Parlo quattro lingue, insegno surf, tennis, vela e... Sì? Sono Remy Pasquier. Il nostro appuntamento era alle 9.30 ed è mezzogiorno. Per me la mattina è un disastro. Ha mai lavorato in un villaggio vacanze? No. Ha mai fatto l'animatore? No, però ho un curriculum vite. Che cos'è? Sugo di pomodoro? No, no, è riso al curry. Per noi due non c'è futuro, è meglio se dai le dimissioni. Ho sacrificato tutto per te e tu mi lasci e mi licenzi. Remy Pasquier, benvenuto a bordo. Scusate, signori, la porta? Where is the door? E lei chi è? Io sono il comandante. Ma vai, comandante la barba, fuma la pipa e puzza di pesce. Il tuo badge. Perché non ho anch'io la trota? Non è una trota, è un delfino. Io cerco mia moglie. Una donna qui da noi, ma per carità. Faccio il gay con le donne, con gli uomini sono etero. La prima volta con una donna? Anche per me è la prima volta. E che con una donna è la prima volta? Lascia perdere, lavoro qui. Come non detto. Una coppetta di champagne? Vai a lavorare. Che cosa fai? Controllo le bollicine. Non mi ha detto il suo nome? Margherita. Ah, come la pizza. Cos'è quel sorrisetto? Un sorrido, ha dato le labbra alla forma del bicchiere. Ma Remy, quella è vernice. Lei è davvero un tipo sorprendente, Remy. Ricordi cosa mi hai detto la prima volta che ci siamo visti? Piacere, Remy? No. Sì, beh, può darsi. Mi senti? Ti ricevo, sì. Incredibile, questo walkie-talkie funziona anche a distanza! Grazie!